Sono Noemi e ho ricevuto un foglio di via dalla città di Torino in cui conduco la mia vita da ormai due anni. Questo perché il 25 luglio ho partecipato a un'azione diretta non violenta da parte del movimento Extinction Rebellion e quel giorno io facevo foto e video. Ciò nonostante, il giorno 4 di agosto ho ricevuto una chiamata dalla Questura di Bologna che mi invitava a tornare nel minor tempo possibile nella mia città di residenza per ricevere la notifica di questo foglio di via e sono stata costretta quindi a lasciare tutto. Il 25 luglio in piazza nel momento dell'azione sono stati notificati 5 fogli di via a compagni e compagnie che erano lì presenti e nel giro di due settimane sono stati notificati e convocati gradualmente altri 10 delle persone che erano in piazza quel giorno con tempistiche e modalità diverse. Alcuni sono ancora in attesa e non sanno se effettivamente riceveranno questo foglio di via e non sappiamo con che tempistiche questa vicenda si concluderà. Ho scoperto il 6 agosto, giorno in cui mi è stato notificato il foglio di via che in realtà il provvedimento era risalente al 25 luglio, quindi il giorno dell'azione stessa ma in quell'occasione nessuno ci aveva neanche avvisato rispetto alla possibilità di ricevere un foglio di via che mi avrebbe cambiato la vita da un giorno all'altro. e quindi mi trovo oggi a non sapere che sarà di me da qui ai mesi prossimi non saprò, non so se potrò riprendere la mia vita normalmente non so se potrò tornare a vivere dove ho un affitto, dove conduco la mia vita da due anni dove studio e dove avrei dovuto iniziare un nuovo lavoro a settembre quindi mi trovo totalmente spaesata e inconsapevole rispetto al mio futuro. Devo aspettare e non so quanto dovrò aspettare prima di avere risposte certe su quando potrò riprendere la mia vita e ciò che più mi fa arrabbiare è che questo provvedimento è del tutto illegittimo perché ognuno di noi, ognuno delle 15 persone che ha ricevuto una notifica del foglio di via ha tutti gli estremi per poter vincere un ricorso provvedimento che saremo forse costretti a prendere per riappropriarci delle nostre vite per rispondere a questa ingiustizia. Il foglio di via ci è stato notificato con la chiara consapevolezza che dovrà e potrà essere revocato. Ciò che fa più rabbia è che questa sia una chiara scelta politica e uno strumento di totale repressione nei confronti di un movimento che sta protestando per una crisi climatica ed ecologica che coinvolge tutti e che ha chiare riprenditori. Ad oggi sembra che l'unica soluzione che abbiamo per poter annullare questo foglio di via sia un ricorso al TAR che ha un costo di 500 euro oltre alle spese ovviamente legali che dovremo sostenere per essere affiancati dai professionisti che ci stanno accompagnando in questa vicenda.